L'Associazione Nazionale Costruttori Ance della provincia dell'Aquila ha istituito uno sportello rivolto a imprese associate e soprattutto a cittadini che hanno bisogno di chiarimenti sul super bonus 110 per cento. La stessa associazione guidata dal presidente Adolfo Cicchetti ha realizzato un piccolo volume con un vademecum utile al cittadino committente alle prese con l'impegno di un cantiere per dare indicazioni su quella che viene considerata una opportunità di rilancio dell'economia in un periodo caratterizzato dalla pandemia. Poi un elenco di imprese qualificate disponibili ad effettuare i lavori del super bonus è consultabile sul sito www.ancelaquila.it. Si tratta, si legge in una nota stampa, di imprese che portano come valore aggiunto la garanzia di far parte di un sistema nazionale che conta migliaia di iscritti e che si basa su un codice etico molto rigido a garanzia del committente. L'operazione messa in campo in collaborazione con il sistema bilaterale Ance formato da Cassa Edile Scuola Edile e Comitato per la Sicurezza sul Lavoro riguarda un territorio dove dopo il terremoto del 2009 insiste quello che viene considerato il cantiere più grande d'Europa. L'iniziativa, si legge ancora nella nota, vuole sensibilizzare sull'utilizzo di una misura del governo senza precedenti che apre le porte ad una nuova fase di rilancio dell'edilizia. I benefici si estendono a tutti i proprietari di immobili che hanno necessità di riqualificare le abitazioni sul piano dei consumi energetici e della sicurezza antisismica grazie ad incentivi che per la prima volta coprono totalmente i costi.